Una lista delle ragazze conquistate, come fossero un trofeo da esporre, affissa alla porta di una classe del liceo Visconti a Roma, a denunciare l'accaduto collettivo Visconti in Rosa, formato dalle studentesse della scuola, una delle più rinomate, nel centro della capitale. L'episodio, anticipato da alcuni quotidiani, è accaduto lunedì e a scrivere questa lista, spiegano da collettivo, sono stati gli stessi ragazzi citati, i quali arbitrariamente hanno esplicitato e affiancato i loro i nomi delle ragazze con cui erano intercorse e relazioni private. Quest'atto non solo rappresenta una grave mancanza di rispetto verso la dignità delle ragazze coinvolte, sottolineano, ma il fatto che gli autori si siano sentiti liberi di esporre pubblicamente questa lista, evidenzia un'assente consapevolezza della gravità di questo atto e la presunzione di una legittimità nel compierlo inesistente e abominevole. Dal collettivo delle studentesse si augurano che la dirigenza scolastica adesso prende dovuti provvedimenti, inizi un percorso di inserimento dell'educazione sessuale e affettiva nel programma formativo, ancora assente nel progetto educativo ministeriale. Si chiede che la scuola si mobiliti immediatamente per prendere provvedimenti nei confronti degli autori del gesto, per dimostrare che denunci l'accaduto e affinché quanto successo venga ricordato per impedire che in futuro avvengano episodi di simile gravità.